vi faccio subito vedere come fare a fare il pane con la mia nuova macchina del pane ho sciolto una bustina di lievito in 280 millilitri di acqua calda e come vedete la sto rovesciando all'interno della macchina del pane prendo dell'olio italiano e preparo un cucchiaio di olio che rovescio all'interno della bacinella nella mia macchina del pane prendo il sale e rovescio un cucchiaino da caffè di sale successivamente prendo lo zucchero e butto mezzo cucchiaino di zucchero sempre nel mio impasto prendo così la mia busta di preparato per pane tipo zero con farina di segale e semi e rovescio il contenuto della confezione circa 500 grammi all'interno della macchina impastatrice programmo poi la macchina impostazione normale 750 grammi schiaccio play e la macchina parte ci rivediamo tra 2 ore 58 28